Essere gallerista per Lorenza Salamon è una questione di famiglia. Forte di una storia iniziata nel 1950, arriva con la galleria la terza generazione. Specializzata nella grafica dei grandi maestri, negli anni 90 le competenze sviluppate, la passione per la perizia e tecnica spingono Lorenza ad avvicinarsi a giovani talentuosi della pittura e della scultura, creando con alcuni di essi sodalizi ventennali, esposti oggi presso la Salamon Fine Art. Nel 2017 promuove con altri professionisti l'apertura della fiera Grand Art per dare voce alla bellezza dell'arte figurativa.